Sono trascorsi due anni dall'omicidio, dov'è il complice? E' questa una delle frasi che ieri, nel giorno del secondo anniversario di morte della grigentina Antonella Alfano, è stata scritta sull'enzuolo bianco. La famiglia e gli amici della giovane l'hanno ricordata con una fiaccolata partita da Piazza Municipio e conclusa al Viale della Vittoria. In testa al corteo due amiche della vittima che tenevano in mano una gigantografia raffigurante l'immagine di Antonella e dei palloncini bianchi. Presenti ovviamente la mamma e la sorella di Antonella, nonché i parenti più stretti. Ricordiamo che per il suo omicidio si trova in carcere il compagno, l'ex carabiniere Salvatore Rotolo, condannato a 18 anni. Il mio ricordo è il ricordo di un sorriso, un sorriso splendido, allegro e gioioso, che purtroppo è una mano umana che tra l'altro doveva pure difendere e proteggere, pur essendo lui. A parte il compagno, il marito, ma anche un carabiniere che indossa una divisa, è stato colui che proprio assombrato questo sorriso, privandolo anche a sua figlia.